Un arisma di studi empirici e un secolo o due di teoria sociale hanno dimostrato che la modernità produce relazioni sempre più superficiali e strumentali. Laddove un tempo sopravvivevano legami di reciprocità basati su un rapporto diretto faccia a faccia, oggi abbiamo la tendenza a vivere in una tecnocultura superficiale e smaterializzata. Questa è la traiettoria della società industriale di massa, che lungi dal trascendere se stessa mediante la tecnologia, sta invece realizzandosi sempre più completamente. In questo contesto è impressionante notare come l'uso originale di virtuale fosse la forma aggettivata di virtù. La realtà virtuale non è solo la creazione di una sottocultura narcisistica, rappresenta una perdita molto più vasta di identità e di realtà. Il suo obiettivo fondamentale è raggiungere la perfetta intimità dell'uomo con la macchina, lo sarradicamento della differenza tra l'interazione di persona e quella basata sul computer. Second life, seconda vita, rinascita. In entrambi i casi si tratta di vie di fuga da una realtà che sta peggiorando gravemente. Sia la scelta high tech, sia quella fondamentalista, sono risposte passive alla situazione attuale che ci sta inghiottendo. Fisicamente e socialmente siamo già molto lontani gli uni dagli altri e la virtualità invasiva ci allontana ancor più.